Ciao amici di Gorizia TV, dai nostri inviati da Andrea e Lorenzo, intervento dei pompieri per le tegole del Teatro Verdi di Gorizia, guardate il servizio, organizzato da Andrea e Lorenzo, i nostri inviati, grazie. Grazie a tutti i nostri inviati. Grazie a tutti i nostri inviati di Gorizia TV. Ciao a tutti.